Siamo nell'azienda Stagnati dove si conclude con la trinciatura la prova Smart Farming messa in campo dal Consorzio di Cremona. Nel progetto Smart Farming sono state utilizzate Soil Explorer per mappare il terreno ed ottenere mappe di prescrizione per la seminarato variabile effettuata con una Monosem di ultima generazione. È stata fatta una concimazione in copertura con Crop Explorer, uno strumento in grado di mappare in tempo reale il mais e di dare concime di conseguenza. Infine viene fatta la raccolta attraverso una New Holland di ultima generazione in grado di ottenere mappe di raccolto. In ottica di un'agricoltura 4.0 all'avanguardia, sempre a passo coi tempi, il Consorzio Agrario di Cremona ha deciso di intraprendere questo progetto, un progetto Smart Farming messo a punto per ottimizzare i mezzi tecnici e ridurre al minimo gli sprechi. Grazie a tutti!